caro amico non ci capisci nulla me ne rendo conto mi credi impazzito lo sono forse un poco ma non per le ragioni che supponi sì mi sposo proprio così e tuttavia le mie idee le mie convinzioni non sono mutate considero l'accoppiamento legale come una sciocchezza sono anche certo che otto mariti su dieci sono becchi e non si meritano di meno per aver avuto l'imbecillità di incatenare la propria esistenza di rinunciare all'amore libero la sola cosa lieta e piacevole di questo mondo di tarpare le ali alla fantasia che ci spinge senza tregua verso tutte le donne eccetera eccetera più che mai mi sento incapace di amare una donna perché amerò sempre troppo tutte le altre vorrei avere mille braccia mille labbra e mille temperamenti per poter stringere nello stesso tempo un esercito di queste creature graziose e insignificanti e tuttavia mi sposo aggiungo che non conosco con lei che sarà la mia futura moglie ho veduta 4 o 5 volte soltanto so che non mi dispiace e questo basta per ciò che voglio farne è piccola bionda e grassa posto mani desidererò ardentemente una donna alta bruna e sottile non è ricca appartiene a una famiglia di ceto medio è una di quelle ragazze come se ne trovano tante nella piccola borghesia una ragazza da marito senza qualità e senza difetti apparenti si dice oggi di lei la signorina laio è molto carina domani si dirà è molto carina la signora raimond è insomma una delle tante ragazze oneste che si è felici di sposare fino al giorno in cui si scopre che si preferiscono tutte le altre donne a quella che si è scelta perché ti sposi allora chiederai oso appena confessare la strana e un verosimile ragione che mi spinge a questo atto disennato mi sposo per non essere solo non so come spiegarti come farmi capire avrai pietà di me e mi compiangerai tanto il mio stato d'animo è compassionevole non voglio più rimanere solo di notte voglio sentire una creatura viva vicino a me contro di me una creatura che possa parlare dire qualche cosa una cosa qualunque voglio poter interrompere il suo sonno rivolgerle una domanda improvvisa una domanda sciocca per udire una voce per sentire un'anima desta un razziocinio in opera per vedere accendendo ad un tratto la candela una forma umana al mio fianco perché perché non oso confessare questa vergogna perché ho paura di stare solo tu non comprendi ancora non ho paura di un pericolo no se qualcuno entrasse nella mia stanza lo ucciderai senza un tremito non ho paura degli spiriti non credo alle cose soprannaturali non ho paura dei morti credo all'annientamento definitivo di ogni creatura che scompare allora allora ebbene ho paura di me stesso ho paura della paura paura degli spasimi del mio spirito che si smarrisce paura di quell'orribile sensazione del terrore incomprensibile ridi se vuoi è spaventoso è inguaribile ho paura delle pareti dei mobili degli oggetti familiari che si animano per me di una specie di vita animale ho paura soprattutto del turbamento del mio pensiero della mia ragione che sfugge sconvolta dispersa da una misteriosa irresistibile angoscia avverto dapprima una vaga inquietudine che mi penetra nell'anima e mi fa correre un brivido per la pelle guardo intorno a me nulla vorrei qualche cosa che cosa qualcosa di comprensibile è così ho paura unicamente perché non comprendo la mia paura parlo e ho paura della mia voce cammino e ho paura dell'ignoto che è dietro la porta dietro le tende dietro l'armadio sotto il letto e so pertanto che non vi è nulla in nessun luogo mi volto d'improvviso perché ho paura di ciò che sta dietro di me quantunque non vi sia nulla e io lo sappia mi agito sento il mio spavento ingigantire mi chiudo nella mia camera mi sprofondo nel letto e mi nascondo sotto le coltri e rannicchiato appallottolato chiudo gli occhi disperatamente e me ne sto così per un tempo indefinito col pensiero che la mia candela rimane accesa sul comodino e bisognerebbe pure spegnerla e non oso peraltro mettere fuori la testa non è spaventevole ridursi così un tempo non provavo nulla di tutto ciò rincasavo tranquillamente andavo e venivo nel mio appartamento senza che nulla turbasse la mia serenità se mi avessero detto da quale paura inverosimile sciocca e terribile sarei stato assalito un giorno avrei riso di cuore aprivo le porte al buio con sicurezza mi coricavo lentamente senza chiudere i chiavistelli e non mi alzavo mai a mezzanotte per assicurarmi che tutti gli ingressi della mia camera fossero ben chiusi il mutamento ebbe inizio l'anno scorso in un modo singolare era una sera umide d'autunno allorché la mia domestica fu uscita dopo cena mi chiesi ciò che avrei fatto camminai per un poco lungo la mia camera mi sentivo stanco accasciato senza ragione incapace di lavorare senza forza nemmeno per leggere una pioggia fine inumidiva i vetri ero triste pervaso da una di quelle tristezze senza causa che ci comunicano talora la voglia di piangere ci fanno desiderare la presenza di qualcuno per scuotere il peso del nostro pensiero mi sentivo solo la mia casa mi sembrava vuota come non mai una solitudine infinita e lacerante che mi avvolgeva che fare mi sedetti una impazienza nervosa mi serpeggiò per le gambe mi rialzai e mi rimisi a camminare avevo forse anche un po di febbre perché le mie mani che tenevo congiunte dietro la schiena come si fa di solito quando si passeggia lentamente scottavano l'una contro l'altra poi d'improvviso un brivido di freddo mi attraversò la schiena pensai che l'umido di fuori entrasse in casa e mi sorse l'idea di accendere un po di fuoco accesi infatti era il primo fuoco dell'annata sedetti di nuovo intento alla fiamma ma l'impossibilità di rimanere lungamente fermo mi fece ancora danzare e sentì che bisognava che uscissi mi scuotessi andassi in cerca di qualcuno uscì mi recai presso tre amici che non riuscii peraltro a trovare in casa poi camminai per le strade risoluto a scoprire qualche persona di mia conoscenza tutto appariva triste intorno i marciapiedi fradici luccicavano una fine acquerigiola una di quelle acquerigiolo impalpabili che agghiacciano a piccoli brividi improvvisi avvolgeva ogni cosa sembrava pesantire e offuscare la luce delle lampade a gas camminavo a passi lenti ripetendo a me stesso non troverò nessuno con cui parlare visitai ripetutamente i caffè dalla madeleine al faubourg poissonier la gente triste seduta ai tavolini sembrava non avesse nemmeno la forza di finire la propria bevanda girovagai così lungamente e verso mezzanotte mi disposi a rincasare ero calmissimo ma assai stanco il mio portinaio che si colica prima delle undici mi ha perse subito contrariamente al solito così che pensai guarda un altro inquilino è senza dubbio rincasato ora ora quando esco di casa do sempre due giri di chiave alla porta quella sera non ritrovai la porta chiusa chiave e ciò mi colpì pensai mi avessero portato su in casa la corrispondenza entrai il fuoco bruciava ancora nel caminetto e illuminava un poco la camera da letto presi una candela per accenderla alla fiamma quando volgendo lo sguardo dinnanzi a me scorsi qualcuno seduto sulla mia poltrona intento a scaldarsi i piedi non ebbe paura no ma fatto una supposizione molto verosimile mi attraversò la mente questa che un amico fosse venuto a trovarmi il portinaio avvertito della mia uscita gli aveva evidentemente detto che sarai presto l'incasato gli aveva affidato la sua chiave e tutte le circostanze del mio ritorno mi apparve non un attimo alla mente la porta giù aperta subito l'uscio di casa mia non chiuso come di solito l'amico si era addormentato dinanzi al fuoco aspettandomi mi avanzai per destarlo lo vedevo distintamente un braccio pensolava a destra i piedi erano incrociati l'uno sull'altro la testa inclinata un poco sul lato sinistro della porta rivelava palesemente il sonno mi chiesi chi sarà l'altra parte se si vedeva poco nella stanza allungai una mano per toccargli la spalla tocca il legno della poltrona non vi era alcuno la poltrona era vuota che sobalzo mio dio indietraggiai da prima come se un terribile pericolo si fosse manifestato all'improvviso poi mi volsi con l'impressione di avere qualcuno dietro di me indi un imperioso bisogno di rivedere la poltrona mi fece volgere di nuovo e rimasi lì ritto ansimando di spavento in uno stato di smarrimento tale da non avere più coscienza prossimo a cadere ma sono un uomo di sangue freddo la ragione mi ritornò subito la ragione mi ritornò subito pensai ho avuto un'allucinazione ecco tutto e mi mise a riflettere sul fenomeno il pensiero corre veloce in tali momenti avevo avuto un'allucinazione questo era fuori di dubbio ora la mia mente era rimasta per tutto il tempo lucida e aveva agito regolarmente e logicamente non esisteva alcun turbamento delle funzioni del mio cervello gli occhi soltanto si erano ingannati avevano ingannato il pensiero gli occhi avevano avuto una visione una di quelle visioni che fanno credere ai miracoli le persone semplici tutto era di peso da una scossa nervosa e nient'altro forse da un po di congestione accesi una candela mi accorsi curvandomi verso il fuoco di tremare e mi alzai di scatto come se mi avessero toccato la spalla non ero tranquillo certo feci qualche passo parlai ad alta voce cantichiai qualche cosa chiusi quindi la porta della mia camera con un doppio giro di chiave e mi sentì un poco rassicurato nessuno poteva entrare almeno sedetti nuovamente riflettendo a lungo al mio caso poi mi coricai e soffiai sulla candela per qualche minuto tutto andò bene mi ero disteso supino e stavo a mio agio mi sorse poi il bisogno di guardare intorno nella camera e mi posi su di un fianco il fuoco non aveva ormai che due o tre tizioni rossi che illuminavano le zampe della poltrona e credette di rivedere l'uomo ancora seduto accesi un fiammifero con moto rapido e ero ingannato non vi era nessuno mi alzai andai a nascondere la poltrona dietro il letto e poi spensi ancora il lume e cercai di addormentarmi mi ero assopito da cinque minuti quando in sogno ma lucidamente come nella realtà rividi tutta la scena della serata mi risvegliai di soprassalto e illuminata che ebbi la stanza rimasi seduto sul letto senza osare nemmeno di riadagiarmi per due volte pertanto il sonno mi invase mio malgrado per qualche secondo per due volte ebbi la stessa visione mi credetti impazzito quando il giorno apparve mi sentii meglio e dormii placidamente sino a mezzogiorno il terrore della sera precedente era cessato interamente cessato avevo evidentemente avuto la febbre un incubo che so ero stato male insomma trovai non di meno assai sciocco il mio comportamento fui molto allegro quel giorno se n'hai alla trattoria andai ad assistere a uno spettacolo poi mi misi in cammino per rincasare ma ecco che avvicinandomi a casa una strana inquietudine cominciò a impadronirsi di me avevo paura di rivedere lui non paura di lui non paura della sua presenza alla quale non credevo ma paura di un turbamento nuovo nei miei occhi paura dell'allucinazione paura del terrore che mi avrebbe riafferrato per più di un'ora percorsi in lungo e largo il marsapiede trovandomi al fine troppo stupido entrai ansimavo così forte che stentavo a salire le scale rimagi ancora più di dieci minuti dinnanzi all'uscio del mio appartamento sul penerottolo e di un tratto ebbi uno slancio di coraggio una ripresa di volontà infilai la chiave nella toppa mi inoltrai con una candela accesa in mano diedi una pedata alla porta socchiusa della mia camera e gettai uno sguardo verso il caminetto non vedi nulla che sollievo che gioia che liberazione andavo e finivo con aria disinvolta ma non mi sentivo interamente sicuro mi voltavo a tratti di colpo l'ombra degli angoli mi ispirava inquietudine dormi male destato spesso da rumori immaginari ma non lo vidi no l'incubo era finito da quel giorno ho paura di rimanere solo di notte sento vicino a me intorno a me la visione essa non mi è più apparsa no più che importa del resto poiché non vi credo poiché so che non è nulla pure mi mette a disagio perché vi penso senza tregua una mano penzolava dal lato destro la testa era reclinata sul lato sinistro come quella di un uomo che dorme via basta in nome di dio non voglio più pensarvi che è pertanto questa ossessione perché questa insistenza i piedi erano molto vicini al fuoco lui mi tormenta è pazzesco ma è così chi lui so che non esiste che non è nulla non esiste se non nella mia angoscia via basta mi sono inutili tutti i ragionamenti non posso più rimanere solo nella mia casa perché vi è lui non lo rivedrò più lo so non mi si mostrerà più è finita ma vi è lo stesso è nella mia mente rimane invisibile ma ciò non mi impedisce che egli vi sia è dietro le porte nell'armadio chiuso sotto il letto in tutti gli angoli oscuri in tutte le ombre se chiudo la porta se apro l'armadio se abbasso il lume sotto il letto se illumino gli angoli e le ombre lui non vi è più ma allora lo sento dietro di me mi volgo certo pertanto che non lo rivedrò che non lo rivedrò più ma lui continua ancora a stare alle mie spalle tutto ciò è sciocco ma è atroce cosa vuoi non posso farsi nulla ma se fossimo in due nella mia casa sento sì sento sicuramente che lui non vi sarebbe definitivamente più perché lui è presente soltanto perché sono solo unicamente perché sono solo no 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 Grazie.